Tauci, cosa cambia da oggi con l'entrata in vigore del Super Green Pass? Se ne parla tanto, forse è anche giusto dare qualche informazione utile ai cittadini? Fondamentalmente chi non ha il Super Green Pass non potrà accedere alle attività di ristorazione, bar, seduti al tavolo. Nel senso che rispetto a prima cambia il fatto che chi non è possessore del Super Green Pass non può fare quello che faceva fino a ieri semplicemente con il Green Pass e col tampone. Resta però invariata l'opportunità di poter consumare al banco e di poter consumare all'aperto seduti a tavolino. Questo è invariato come sono invariate tante altre categorie dove il Green Pass normale rimane tale. Purtroppo è un sistema che colpisce fondamentalmente per l'ennesima volta il settore dei bar e della ristorazione. Noi diciamo comunque in generale che se questo effetto produce una non chiusura per tutti i settori è un sacrificio che però in qualche modo il governo dovrà tentare di ristornare a queste imprese che purtroppo saranno quelle più colpite. Per i possessori di Super Green Pass non cambia nulla. Chi è vaccinato al Super Green Pass o chi ha avuto purtroppo il Covid nell'arco degli ultimi 12 mesi potrà girare e fare tranquillamente la propria vita in piena tranquillità e autonomia. Voi temete un calo di fatturato seppur contenuto? Sì anche perché una fetta importante di chi non ha il Super Green Pass sono i giovani che non ancora procedono alla vaccinazione e sono quei giovani che poi vivono alcuni luoghi soprattutto luoghi legati anche alla Movida e purtroppo quello sarà un calo di fatturato. Grazie a tutti.